Eleonora è tornato in carcere Luis da Silva dove ci troviamo adesso in attesa, ancora sono ore di fermento, di sapere se da questo carcere uscirà come uomo libero, ma sempre indagato, con il braccialetto elettronico oppure resterà in carcere. Queste sono le tre opzioni, queste sono le tre ipotesi, ovviamente la procura spinge per tenere in carcere Luis da Silva. Alcuni elementi in mano proprio al procuratore Paci, fra questi il video nel quale viene ritratto un uomo che verosimilmente potrebbe essere di carnagione scura e che forse potrebbe indossare una bandana o un cappello a te. Allora potrebbe essere arrivare la notizia proprio all'istante Monica, chiedo brevemente se riassumi. Sì, considerate che entro la giornata di oggi deve necessariamente arrivare questa sentenza per Luis, quindi capire se uscirà dal carcere come diceva il collega Vito Paglia con braccialetto elettronico oppure se decideranno che continui a restare in carcere. Appunto perché secondo gli inquirenti sono diversi elementi che lo inquieterebbero, tra cui questo video della farmacia. Grazie, grazie Monica. Il famoso video della farmacia, allora qui Davide Barzan, grazie Manuela e Loris che sono rimasti qui nel nostro studio. Davide, pochi istanti veramente potrebbe esserci la notizia della decisione. Il dispositivo vedremo, per il GIP non ha dubbi, secondo il GIP ci sono dei indizi gravi, precise e concordanti, ha convalidato insomma l'arresti in carcere per Da Silva, vediamo cosa succede. Manuela e Loris, sei ovviamente in grande ansia e preoccupata, qual è il tuo stato d'animo in questo momento e che cosa ti aspetti da questa decisione? Sta continuando in assoluto il periodo più tremendo della mia vita. Penso che in questo periodo i sentimenti, le emozioni che esistono nel mondo le ho provate tutte a rotazione, per cui sì, sono abbastanza in ansia anche per questa decisione. Loris, che cosa ti aspetti oggi? Pensi che venga confermato? Questo non posso dirlo, però sarei contento, lo dico veramente, se fosse messo in libertà con il braccialetto elettronico, perché da una parte starebbero sicure le persone che hanno paura, diciamo, che in questo momento vanno tutelate. D'altro canto, si sentirebbe più libero lui, sino che non venga condannato, perché non ci sono dubbi sulla sua colpevolezza, nel caso fosse. Abbiamo pochi secondi. Anzi, è improbabile l'inchiesta parte tutta in salita. Tutto questo procedimento sarebbe, come dire, molto danneggiato. Vedremo, vedremo. Grazie. Grazie.